In questo 2022 compie 140 anni il Conservatorio Rossini di Pesaro, un compleanno a cifra tonda che viene festeggiato nella maniera migliore, con l'ufficialità in questo 11 febbraio delle finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro di fondi ministeriali che serviranno ad una radicale riqualificazione strutturale di Palazzo Olivieri, che è la casa storica del Conservatorio Rossini. Il percorso è lungo ed è stato impegnativo e se non ci fosse stato un gioco di squadra tra conservatorio, fondazione e comune non avremmo ottenuto questo risultato, che è un risultato importante, che peraltro è un risultato riparatorio, perché questo è un conservatorio che non può accedere tecnicamente all'edilizia pubblico scolastica, non avendo la proprietà. E quindi questo emendamento si è costruito con l'idea di mettere anche i conservatori che si trovano nella situazione giuridica, tipo quello di Pesaro, potessero avere dei finanziamenti congrui per la messa in sicurezza e la ristrutturazione. Questo è avvenuto. I nostri tecnici, che io ho salvaguardato tutti, perché tutti quelli che a vario titolo hanno lavorato anche in passato con la fondazione o con il conservatorio, spesso a titolo gratuito come volontariato civico, hanno fatto una squadra capeggiata dall'ingegnere De Angelis, questa squadra è stata selezionata tra i due conservatori che si sono assegnati i fondi. Noi per 5.530.000, il resto l'ha preso il conservatorio di Vicenza. Quindi è un momento importante che coincide con un anniversario importante che è il 140esimo della fondazione di questo illustre conservatorio, che ha circa 700 studenti, di cui il 10% stranieri, il doppio di quanto hanno mediamente le università italiane. Quindi l'alta formazione in Italia è un attrattore di studenti stranieri che è pari al doppio della media dell'università italiana. Quindi è un settore verso il quale la città della musica UNESCO dovrebbe porre sempre la massima attenzione ed impegnarsi a che questo conservatorio rappresenti sempre un punto di eccellenza e uno dei principali attrattori culturali della città. Palazzo Livieri dunque è sottoposto per i prossimi tre anni a interventi straordinari di tipo strutturale, dall'adeguamento alle normative vigenti sulla sicurezza, ai lavori di manutenzione ordinaria. Si parla di sistemazione delle coperture, insonorizzazione, riscaldamento e erazione delle aule, climatizzazione dell'auditorium Pedrotti, restauro degli sterni e degli infissi, oltre al rifacimento di impianti e parziale ridistribuzione degli spazi funzionali alle esigenze didattiche. Durante la conferenza stampa in collegamento anche Gianni Letta, presidente della Fondazione Rossini, fondazione che è l'ente proprietario della struttura, e questo ha creato una certa difficoltà burocratica nel reperire i fondi per una struttura non prettamente statale. Un iter lungo anni accolto con soddisfazione dal Comune di Pesaro, anche dalla provincia di Pesaro Rubino, con Giuseppe Paolini, che ha raccontato come la provincia di Pesaro Rubino sarà stazione appaltante dei lavori. Sindaco Ricci e Vice Sindaco Vimini che hanno applaudito l'ennesimo palazzo storico della città, pronto ad una importante opera di riqualificazione, un palazzo che anche strategico nella prossimo programma di candidatura a Capitale della Cultura, qui dall'auditorium Pedrotti, Pesaro farà la sua audizione decisiva per provare a vincere questo importante titolo per il 2024.